ve lo abbiamo anticipato per la prima domenica dell'anno avevamo bisogno di qualcosa di forte di un maestro spirituale di una innamorato di maria volete sapere chi è venite con noi cardinal angelo comastri emerito arciprete della basilica di san pietro non si alzi non la posso abbracciare come vorrei io le devo anche un grazie personale eminenza perché nei miei mesi difficili lei non mi ha fatto mancare neanche un giorno la sua carezza io di questo non la io per questo non la dimenticherò mai glielo voglio dire proprio in apertura di questo nostro momento eminenza ci siamo lasciati qualche ora fa un capodanno il primo dell'anno ma dal punto di vista spirituale il punto di vista anche liturgico c'è una ricorrenza importante maria madre di dio ma chi era questa ragazzina perché stata scelta proprio lei chi era lascio rispondere elisabetta che era bene informata perché era illuminata dall'alto quando dopo un lungo faticoso e rischioso viaggio maria arriva sulla soglia della casa di elisabetta elisabetta dice beata te perché hai creduto è la fotografia di maria maria è la credente per eccellenza una fede senza ombre senza tentenamenti senza inclinature noi ci chiamiamo credenti ma siamo credenti poco credenti quando il 4 gennaio 1964 paolo sesto per la prima volta un papa ritornato in palestina davanti al santo sepolcro di gesù pregò così siamo qui signore gesù siamo tornati come i colpevoli tornano sul luogo dell'elitto siamo venuti come colui che ti ha seguito ma ti ha anche tradito tante volte fedeli tante volte infedeli e la fotografia della chiesa eminenza una fede senza ombre ha detto lei sì ma che cosa vuol dire in che cosa si traduce praticamente andiamo all'annunciazione immaginiamo quel momento maria in casa una povera casa di nazareth nazareth un piccolo villaggio e le case case di povera gente addirittura i pavimenti hanno terra battuta maria in casa probabilmente è orfana perché non si parla amare le sue genitori nel vangelo è giovanissima sta in casa le sue faccende di sempre promessa sposa giuseppe durante la giornata sicuramente maria si ferma a pregare e ripensa alle parole di isaia che ha sentito nella preghiera del sabato isaia dice il popolo che camminava nelle telebre vede una grande luce su coloro che abitavano una terra tenebrosa una luce ai fulze ha moltiplicato la gioia ha aumentato la letizia perché un bimbo è nato per noi ci ha dato un bimbo sulle sue spalle la sovranità e sarà chiamato consigliera ammirabile dio potente principe della pace ma maria si domanda e chi è e quando verrà costui e chi sarà la sua mamma chi sarà la sua mamma mentre si pone questa domanda la stanza si illumina piena di luce e vede un angelo davanti a sé maria lo interroga con gli occhi può dire ma chi sei e l'angelo risponde sono gabriele sono stato mandato da dio gioisci tu che sei piena di grazia che sei abbracciata dalla benevolenza di dio il signore è con te maria si sente turbata lo dice l'evangelista come fa a non aver paura la paura perché maria non si sente degna di quel saluto sembrava sproporzionato a lei perché maria era umile ma non ha tempo di pensare perché l'angelo dice conceperai un figlio lo darei alla luce lo chiamerei gesù sarà grande chiamato figlio dell'altissimo siederà sul tono di davide suo padre il suo regno non avrà fine maria davanti a queste parole ha subito un momento di turbamento e dice ma io ho sentito un'ispirazione per consacrarmi totalmente al signore mi sembrava un'ispirazione anche giuseppe d'accordo con me l'angelo risponde ecco il momento della fede guarda che la tua virginità sboccerà in maternità mai accaduto e mai ripetuto evidentemente lo spirito santo scenderà su di te e maria tenta maria è davanti all'angelo e l'angelo aspetta la risposta maria poteva dire a cavolo mio non è roba per me no in che guai mi metti certo se io dopo esco e dico mi ha perso un angelo oggi ho concepito un figlio figlio mio di dio cosa mi dicono chi mi crederà no viene da dio maria eccomi sono la serva del signore avvenga io mi commuovo a dire queste cose che fede eminenza con come dire commuove anche noi immaginare che allora come oggi una annuncio del genere spariglia tutti i piani questa ragazza io mi ho detto ragazzina per dire la teneretà giovane giovane età esatto che aveva altri progetti con un uomo meraviglioso che poi sarebbe stato san giuseppe l'abbiamo capito tutti e che dicessi quell'eccomi possiamo portarla eminenza in casa di qualcuno che anche aveva tutti i piani sa perché sposata tre figli un artista che riprende la sua attività e poi dopo toc toc bussa un'altra creatura arriva un'altra maternità dopo la terza molto complicata e diana che ci aspetta sava a taranto a casa sua diana buongiorno buon pomeriggio il caso di dire vista l'ora diana buon pomeriggio eccoli qua scusateci non sapere quanto avete mangiato l'altro ieri insomma la del 31 mi raccomando grazie per questa sorpresa allora intanto vorrei salutare giuseppe se non mi sbaglio vero poi c'è in braccio benedetta francesca giusto se me li fate vedere un momento così o meglio ecco l'ultima arrivata l'ultima arrivata ciao papà emmanuele buongiorno buonasera mi fate vedere perché c'è un attimo la camera allora chi abbiamo vicino sto un po lontana emmanuele chi c'è in braccio gabriele pio lo vedo benissimo io c'ho in braccio i miei due pupilli gabriele pio e beatrice maria ciao tesori buon anno buon anno diana allora l'eminenza ti ha fatto un sorriso buon anno a te lucia come se avessi visto la madonna veramente io volevo dire veramente che eminenza buonasera lei è tanto innamorato della madonna come siamo innamorati noi però lei deve sapere che noi siamo tanto innamorati di lei tantissimo io quando la vedo in tv pregare o parlare per me è proprio un papà un padre che parla ai figli grazie grazie per tutto quello che fa eminenza posso confermare devo dire ciao amori sono giorni insomma difficili parliamoci insomma poi ci sono quattro bambini quando diana mi ha detto ma qual è la situazione ha detto c'è il cardinale non ha detto guarda a costo di metterci noi a casa di non muoverci per questo pomeriggio di festa noi ci saremo diana allora diciamo anche un'altra cosa dopo gabriele pio hai ripreso la tua attività tutto bello sistemato eccetera poi bussa la porta quest'altra cicogna lo possiamo dire e insomma tu tante domande te le sei fatte maria ha detto l'eminenza era turbata non sei stata da meno no io ho avuto tanta paura perché pensavo comunque di non farcela anche perché io ho sempre avuto dei delle gravidanze un po difficili cesario ogni volta e quindi mi sentivo anche in colpa nei confronti di gabriele pio perché ancora piccolino la pandemia sono stata veramente turbata male però poi devo dire che la forza me l'hanno data ai bambini quando io ho confidato loro quando io e manuele ci siamo guardate abbiamo detto adesso glielo diciamo loro ci hanno dato la forza erano felicissimi per loro era una benedizione dal cielo poi c'è da dire che beatrice pregava ogni sera perché voleva nel suo cuore a tutti i costi una sorellina quindi ogni sera diceva ti prego gesù manda una sorellina ogni sera e beh questo è il regalo più bello che ci potesse essere con tutte le manure la spontaneità e devo dire anche la grande sincerità di diana è credo l'interpretazione di quello che avremmo pensato tutti è una famiglia già come dire con degli schemi prefissati dove finalmente si riprende anche una certa cosa e poi dio che scombussola i piani perché oggi c'è si dice si vede sempre la difficoltà c'è sempre quella tentazione di dire no stavolta non ce la posso fare perché mentre maria subito ha detto va bene ho capito perché viviamo in un'epoca di poca fede noi diciamo di credere nel signore ma soprattutto crediamo in noi stessi io leggevo un pensiero di carlo acutis il beato lo sguardo su dio è la felicità lo sguardo sull'io è l'infelicità oggi lo sguardo è soprattutto sull'io abbiamo dimenticato dio quando dire al centro quando è al centro della famiglia la famiglia non teme ma le tre sono mi diceva sempre una famiglia che prega non può crollare una famiglia che prega non può crollare mi sembra che sia la vostra famiglia veramente bello sentire da voi questa fede questo abbandono questa serenità e all'inizio dell'anno è anche un bel auspicio pensate una volta una volta disse a mare Teresa madre è passato un altro anno abbiamo un anno in più e mi disse no un anno in meno come un anno in meno un anno in meno per fare del bene un anno in meno per fare tutto quello che dobbiamo fare agli altri un anno in meno per sorridere allora affrettiamo facciamo del bene ancora moltiplichiamolo perché abbiamo un anno in meno diana che cosa ti ha portato beatrice che cosa ti ha portato benedetta cosa ti ha portato giuseppe francesca allora giuseppe ha ci ha portato proprio la maternità cosa vuol dire essere madre la paternità quindi tutte le paure tutte le ansie del primo figlio beatrice la bellezza perché è arrivata questa cucciolina rosa e quindi ti lascia immaginare dopo tanti maschietti in famiglia è arrivata la principessa Gabriele Pio è stata la prova la prova ecco mi ha morito dice la Gabriele è stata la prova abbiamo fatto due mesi in terapia intensiva con questo lì è proprio lì c'è stato proprio l'atto di abbandono di fede c'è o credi o non credi allora io lì dissi proprio a papà addio se è tuo prenditelo se è tuo e poco poco mio lasciamelo lì ci siamo abbandonati abbiamo pregato tanto come non mai tantissimo tantissimo e poi quando meno te l'aspetti è arrivata proprio lei la meraviglia che ha portato la serenità cioè io adesso mi sento serena non lo so perché una serenità che non appartiene tanto all'essere umano perché come dice sua eminenza siamo troppo portati a pensare a noi stessi all'io c'è poco spazio per le famiglie è verissimo queste la famiglia ormai nella società viene vista come un'anomalia noi siamo visti come alieni eh lo immagino quattro figli come se fosse una cosa scandalosa quattro figli e quindi però in questa sentirmi un po aliena ci siamo guardati io con mio marito eravamo preoccupati per tante cose immagino e poi ci siamo detti ma questa è la vita cioè cosa 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 io pretendiamo cioè non c'è alla fine un premio una vittoria la vita è questa è l'amore che abbiamo dato che riusciremo a dare e saremo ricordati per questo non c'è altro diana io vi fermo un momento ma guarda che torniamo torniamo a casa vostra quindi rompete le righe per i pupetti perché poverini se no stanno così non vi dico a qualche ora precisa ritorniamo ma perché ho bisogno di entrare e di uscire perché tutto quello che avete detto eminenza sembra condinzare in un certo senso questa realtà mi piace parlare di realtà e non d'immagine di maria in fondo questa giovane donna aveva più da perdere la reputazione il marito allora c'era la lapidazione per l'adulterio attenzione c'era il rischio la vita e invece nel momento in cui si sottrae e fa entrare dio si abbandona serena calo carretto nel tempo qui visse in africa un lungo periodo di preghiera ha raccontato che aprì un'amicizia una piccola tribù di tuareghe e una volta andando a trovarli c'era la figlia del capo del villaggio gli dissero sta per sposarsi è promessa sposa a un giovane di un altro villaggio di un altro quando ritorno dopo un po di tempo penso il matrimonio è stato celebrato un po di imbarazzo come mai passato un po di tempo domanda a un servo ma che è successo fa così il senore degli arabi l'hanno sgozzata perché l'hanno trovata incinta prima che andassero insieme carretto dice ho pensato subito alla madonna ho pensato a lei che eroismo abbandonarci nelle mani di dio dirlo è facile ma vivere un'altra cosa è eminenza ed è difficilissimo soprattutto in tempi come questi questi sono i giorni dei buoni propositi dei bilanci di un anno difficilissimo inutile che ce lo stiamo dicendo di grandi speranze se guardiamo al punto di vista economico l'italia che diventa anche un po fiorellocchiello di questa ripresa planetaria eccetera eccetera ma la come dire scrutare quell'orizzonte alto arrivare a dio è qualcosa che sembra avulsa dalla vita quotidiana c'è roba per preti è roba per chi crede per qualche comunità perché che cosa di cos'altro abbiamo bisogno ma anche noi cristiani anzi soprattutto i cristiani che credono di comprendere che da soli non ce la facciamo mi hanno regalato un libro è un autore americano che neanche ricordo un nome molto lungo molto strano ma il titolo sì il titolo è homo deus l'uomo dio e ho sfogliato il libro se abbiamo ormai raggiunto tutte le mete possiamo addirittura creare anche la vita artificiale siamo arrivati sulla luna siamo arrivati su marte adesso giriamo anche attorno al sole vicino a vicino al sole ma cosa possiamo fare di più siamo quasi un dio no siamo piccoli io ricordo un'affermazione di newton un grande scienziato un uomo di cervello se ne aveva e lui si domanda a un certo punto che ricordo lascerò io a me sembra di essere stato un bambino che ha trovato qualche conchiglia lungo la riva del mare mentre l'oceano della verità è rimasto tutto davanti a me mi sento tanto piccolo e pascal un altro uomo intelligentissimo è arrivato a dire l'ultimo atto dell'intelligenza sane a riconoscere che ci sono un'infinità di cose che la superano quando l'intelligenza non capisce questo è debole oggi viviamo una specie di esaltazione di orgoglio crediamo di essere onnipotenti non lo siamo siamo piccoli e la pandemia ci ha fatto capire la nostra piccolezza se non tiriamo le conseguenze non abbiamo capito niente però eminenza noi pensavamo di essere diventati tutti tanto buoni avevamo dato il meglio di noi avevamo riscoperto l'amore del pianerottolo ci eravamo accorti all'improvviso del vicino che forse non sapevamo neanche come si chiamasse finita quella grande paura non l'emergenza ma quella grande paura io non so lei che impressione abbia ad annusare dalle finestre quello che succede ma a me non sembra che quella che quel ritorno alla serenità la semplicità alla verità sia rimasto a me non mi sembra che la lezione sia stata capita quando si avvicinano le feste la frenesia di avere la frenesia di divertimenti la frenesia di godere ma torno ad una parola di madre teresa molti pensano che la gioia venga dal di fuori denaro successo divertimenti no la gioia viene dal di dentro dal cuore se il cuore è buono è sintonizzato con dio e dio diceva dostoevsky è il proprietario esclusivo della gioia eminenza io madre teresa ci devo assolutamente ritornare una delle donne della sua vita lo posso dire quelle donne che hanno accompagnato il cuore grande del cardinale state con noi dopo la pubblicità e luce noi il 2 di gennaio possiamo fare solo quello regalarvi un pizzico di luce bentornati a finalmente domenica ve l'abbiamo promesso volevamo regalarvi un po di luce dai d'inizio anno e la prima domenica dell'anno abbiamo lasciato una festività quella di ieri che è proprio maria madre di dio e noi ci mettiamo sulle tracce di maria con il cardinal angelo comastri che ringrazio personalmente per averci dedicato questo spazio di domenica tra l'altro poi correrà credo a san salvatore lauro quindi state tranquilli eminenza le donne della sua vita hanno un significato importante la stiamo vedendo madre teresa quando lei era vescovo di massa marittima piombino e questa foto dice tutta la complicità tra voi due cosa ha portato madre teresa nella sua vita per la teresa è la mia mamma sono state le donne della mia vita dopo la madonna evidentemente madre teresa io ricordo quando andrei a trovarla l'ultima volta il 22 maggio 1997 la mamma era andata in cielo da poco tempo e mi mancava dico sinceramente perché la mamma mi ha accompagnato sempre da bambino fino a quando sono andato arcivesco a loreto sempre accanto a me quando si era chiamò ho sentito un grande vuoto e glielo disse a mare teresa madre mi manca tanto la mia mamma ma lei meravigliata mi disse ma guarda che le persone in cielo non si allontano sono più vicine la mamma che più vicino ora di prima poi mi strinse il polso e mi disse presto ci sarò anch'io ti staremo sempre vicini io mi commossi tanto hanno visto queste parole nel ripeterle mi commovo come in quel momento ti saremo sentimi sempre vicini io la sento mare teresa la sento accanto alla mia mamma che mi proteggo ma si è mai chiesto perché abbia scelto lei perché voglio dire insomma era un giovane paroco quando lei l'ha conosciuto ce l'ha raccontato tanta volta ma nostra forse da rispolverare che cosa ha visto in lei se l'hai domandato si è spiegato che cosa madre teresa ha visto nel cuore di un giovane parroco quando io l'ho incontrata la prima volta era il 1968 ero giovane sacerdote e non so perché ho seduto dentro di me come una specie di spinta seppi che questa donna era qui a roma questa suora allora la chiamavano suora indiana invece poi albanese andai era una parrocchia che a roma andai proprio distinto e lei mi ricevette aveva parlato andai in sacristia madre a chi sei sono sacerdote un giovane sacerdote su all'inizio del mio cammino madre dico sinceramente con un po di paura mi prende posto della sua protezione prega per me la vedo ancora mi guarda con quello sguardo intenso ma che aveva madre teresa mi domanda quante ore preghi tu madre la messa tutti i giorni berviario di giorni rosario tutti i giorni mi sembrava nel 68 di essere un eroe e con i tempi durissimi la madre mi dice non basta questo è il tuo dovere ma il tuo rapporto con gesù è un rapporto di amore nell'amore non ci si può limitare al dovere devi trovare ogni giorno almeno mezz'ora per stare davanti a gesù davanti all'eucaristia per immergerti nell'amore per tuffarti nell'amore io quasi per difendermi feci madre ma lei mi aspettava che mi chiedesse quanta carità fai lei mi disse e tu credi che io potrei fare la carità se non mi mettessi davanti a gesù affinché riempia il mio cuore del suo amore allora vado a portare l'amore agli altri ma ricordati che senza dio siamo troppo poveri per poter aiutare i poveri queste parole le ho scolpite qui senza dio siamo troppo poveri per poter aiutare i poveri eminenza lei la povertà la conosce è bella mamma mia lo sa che invece noi abbiamo paura della povertà penso che la prima paura è quella di ammalarsi e poi la paura di diventare poveri a me la paura è quella di avere troppo la paura di alicchirmi mi fa paura ma reteressa da questo punto di vista volevo essere estremamente povera non chiediti mai cosa prendere ma cosa dare è bello poco fa incontrato una signora che era un po in crisi che mi potrebbe aiutare che mi potrebbe dare una forza per superare questa crisi permessi di dire la signora mi chiede sempre chi mi potrebbe dare mi potrebbe aiutare io invece le chiedo cosa potrebbe dare si faccia questa domanda chi possa aiutare se rovescia la situazione sarà più serena eminenza quando lei comunicò a sua mamma che voleva consagrarsi che la sua strada era quello mamma come reagì la mamma era una donna di fede donna molto semplice quando dissi mamma vado in seminario lei mi disse ma sei convinto mamma penso di sì mi raccomando quando è detto un sì a gesù va detto sul serio io poi ho saputo in seguito che una cosa simile accadde a mare teresa la mamma l'accompagnò alla stazione di zagabria con lei doveva partire per l'irlanda per entrare a questa congregazione di suore alla stazione la mamma l'ha salutata non ci sono più viste più viste era giovanissima madre teresa il 928 18 anni la mamma disse figlia mia stringi la mano di gesù non voltarti più indietro non pensare a me non preoccuparti gesù provvederà a me ea te che mamma questo è quello che dovrebbero dirci le mamme io credo di sì credo di sì la mamma deve fare questo e quando la mamma di questo la mamma deve sempre generare deve sempre dare non si è mamma in un momento la mamma è la vocazione di una vita la mamma da la mamma dona la mamma si spende la mamma non pensa mai a se stessa pensa quando sono stato operato al cuore dopo l'intervento la mamma mi venne accanto allora non c'era il problema del covide assolutamente la mamma dentro mi vede con tutti questi tubi la poveretta era preoccupata io un po soffrivo mi scappo detto ma senza cattiveria mamma non può capirmi quanto soffro la mamma rimase almeno 15 secondi in silenzio poi mi disse figlio mio ti capisco però ricordati quando soffre un figlio la mamma soffre il doppio mi dice scusami mamma non volevo offenderti ora capisco cos'è la mamma io la vorrei abbracciare se soltanto avessi la possibilità di farlo ma lei sa che in questo momento il mio cuore è vicino al suo e questa scena forte se volete dire non so come definirla io la vorrei girare a Diana perché il dolore di Diana questa cantante straordinaria che mi ha comunicato in segreto una cosa però se vuole la dice lei se no io non la dico è un dolore di una donna che ha rischiato di perdere il bambino perché Gabriele Pio ce l'ha raccontato una volta a bel tempo si spera è una storia di una nascita eminenza miracolosa Gabriele Pio era di sei mesi quando è nato era poco più di mezzo chilo eppure il mondo si è unito per pregare mamma Natuzza e padre Pio ci hanno messo lo zampino vero tanto è vero che tu andrei a testimoniare uno nel processo di beatificazione e adesso ce l'abbiamo in braccio a papà Emanuele Diana hai sentito le parole di è terribile ma lo sappiamo benissimo hai sentito le parole del cardinale ti senti interpellata su questa cosa io mi sono commossa perché è vero una testimonianza fortissima e ringrazio per questa testimonianza la mamma è sempre la mamma cioè io mi sono resa conto quando ero anche in ospedale per Benedetta per per partorire era una gioia il mio pensiero erano anche loro quindi non ho pensato a me per riprendermi il mio pensiero costante erano sempre i bambini i miei figli non c'è altro cioè tu puoi stare anche male però l'importante e vedere loro star bene questa è la verità non senti di essere madre secondo me non c'è un'età e quello che stai dicendo è una cosa bellissima e fortissima e credo e spero che ad inizio d'anno dia veramente tanta tanta forza anche a chi confida e in questo dono perché la maternità è un dono lo si accetti o meno è un dono a prescindere senti diana a quanti ci stanno guardando in questo momento io l'immagino però madre chiama madre chiama è verissimo è verissimo e indipendentemente dal fatto che generi o meno questa è una cosa su cui credo che anche tu sia d'accordo diana quelli che invece quanti ci stanno stanno dicendo ma te vedi chi gliel'ha fatto fare è un artista questo figlia sarà d'intralcio la sua carriera che avevi da poco tra l'altro ripreso con grande forza che cosa rispondi rispondo che le vie del signore sono infinite nel senso che ho imparato grazie a un a una persona adesso che non c'è più un frate mi disse io chiesi consiglio a padre pancrazio e lui mi disse diana tu devi mettere sempre al primo posto dio poi la famiglia e poi il lavoro e così potrai andare avanti facendo così arrivano anche delle meraviglie perché a dio piacendo a febbraio ci sarà il primo festival di sanremo della musica cristiana dove io ne farò parte sono stata selezionata e famiglia permettendo andremo a sanremo proprio primi di febbraio ad evangelizzare come vedi non solo non hai perso niente non solo non hai perso niente ma tutto recupero allora diana o anche giuseppino mi sta sbadigliando speriamo che non lo facciano i telespettatori allora che è terribile beatrice la meraviglia mia ecco e la gabriele pio è il terremoto di sempre emanuele tu sei nato santo tu sei san giuseppe lo sai o come quanto ti ammiri diana noi possiamo solo dirti grazie dal profondo del cuore per questa testimonianza dio vi benedica nel vero senso della parola sei la nostra maria in questa puntata bellissima grazie veramente grazie di eminenza questa domanda era importante questa risposta soprattutto mi scusate siete bellissimi ciao amori siete bellissimi voi perché si ha sempre l'idea oddio divento mamma divento papà chissà cosa perdo maria questi conti non se li è fatti maria si è consegnata è la libertà che si è aperta totalmente a dio nessuna libertà umana si è talmente consegnata come lei dante disse che la libertà è il maggior dono che dio per sua larghezza fece all'umanità lo maggior dono ma molto spesso questa libertà la usiamo per tradire la libertà per diventare schiavi maria ha usato la libertà per essere libera e consegnandosi a dio si è veramente liberi santo ambrosio disse dio è l'unico signore che non toglie la libertà ma dà senso alla libertà quanto importante questo eminenza perché anche per chi crede tutto questo che è sacrosanto che è verissimo diventa però così difficile da vivere perché questo scollamento anche ripeto in chi si accompagna a dio chi questo dio lo sente perché in fondo ce lo siamo detto mille volte il cristianesimo è un incontro è un abbraccio tra un padre che anche figlio e tutti noi molto spesso non ci fidiamo di dio torna ripetelo siamo credenti poco credenti e quel poco credenti è lo spazio dell'infelicità più aumenta la fede più cresce la felicità perché dove arriva dio da una grande contentezza una grande gioia giovanni papini un convertito lo chiamavano la belva di firenze poi diventato l'agnello di firenze quando dopo la conversione ha meditato il natale disse ma perché gesù è nato in una stalla quando c'è di mezzo dio non può essere un caso lì c'è un progetto è nato in una stalla ha detto papini il doppio la mente ragione per dirci che il mondo è una stalla soltanto se si accoglie dio la stalla diventa la luminosa betlemme senza dio anche una reggia diventa una stalla io non vorrei che chi non abbia fede ma che ci sta guardando in questo momento si senta toccato qui non si tratta di essere di dire chi crede più bravo è solo che più felice forse per certi aspetti ed è qualcosa che richiama una parola che è scappata a diana la madre ecco lei che dona eminenza noi la portiamo in un convento pieno di pace a bastia umbra la badessa sor noemi scarpa madre noemi scarpa a quella felicità negli occhi che ci ha stregati questa è la maternità spirituale che anche maria ci può insegnare daniele morini guardate sono sempre stata una ragazza molto vivace piena di energie con grandi ambizioni giocavo a pallacanestro sognavo la serie a a un certo punto invece il signore si è fatto presente nella mia vita e mi ha chiamato per una vita più interiore spirituale di dare un senso nuovo alla mia esistenza un senso alla luce della sua parola così a vent'anni ho deciso di entrare in un monastero di clausura e dedicarmi alla ricerca di dio alla preghiera con tanti anni di formazione sono poi diventata una madre la madre delle mie consorelle a volte pensiamo che no nella vita consacrata non si possa vivere la maternità pensiamo che noi donne consacrate non viviamo questa dimensione umana invece non è vero certamente a livello fisico biologico no ma la maternità non si riduce a una generazione biologica della vita alla maternità e anche spirituale una maternità che sa generare le persone alla vita alla vita vera la vita vissuta alla vita dello spirito come madre spirituale questo lo vedo continuamente non solo con le mie consorelle all'interno della comunità ma anche con tutte le persone che si avvicinano al monastero che vengono e bussano alla nostra porta che chiedono di essere ascoltate di essere guidate di essere accolte e comprese ecco che anche qui la maternità ha il suo valore al suo intervento è generativa maria è stata per me sempre un punto di riferimento anche molto commovente sempre chiesto la sua intercessione il suo aiuto soprattutto nei momenti più difficili proprio come una madre una madre attenta ai suoi figli anche lei aveva altri progetti anche io ne avevo altri ma vedendo lei ho visto che solo nella volontà di dio c'era la mia gioia la mia felicità scesa eminenza una pace qui dentro che farà riflettere che credo sia arrivata anche a casa la pienezza di questa donna e tra l'altro questa donna bussano le persone più impensabili ve lo posso assicurare persone più lontane della fede a un certo punto per un modo o in un altro per un verso per un altro si trovano a bussare a chiedere aiuto la presenza di maria eminenza nelle nostre vite che cosa porta è una madre io la madonna la sento come mamma e sento che in qualche modo si sovrappone alla mia mamma o la mia mamma si sovrappone alla madonna e la sento vicino a me per aiutarmi quante volte quando qualche momento di difficoltà madonnina aiutami madonnina guidami madonnina dimmi cosa devo fare e sento che mi suggerisce la sento vicina sento questa maternità spirituale perché dio ha avuto bisogno di una madre eminenza perché io credo che dio è dono infinito e nella maternità c'è qualche cosa di dio ci ha dato la possibilità di vivere qualche cosa che è intima al mistero di dio dio è colui che dona dio è dono e la maternità è dono quindi la mamma che vive la maternità e la vive intensamente vive in comunione con dio eminenza io ho bisogno dei suoi auguri dico io ma in realtà penso tutti quelli che stanno guardando in questo momento lei non ha avuto un anno facile non ce lo nascondiamo che lezione al suo cuore è arrivato e soprattutto qual è il suo auspicio per questo 2022 io dico a tutti non chiedetevi cosa posso prendere chiedetevi cosa posso dare guardatevi attorno a voi sicuramente avete qualcuno al quale potete asciugare una lacrima io penso a giovanni vapini ancora lui disse ma come faccio a sapere che gesù è nato in me perché è natale se gesù nasce in me potrebbe nascere anche dieci mila anche duemila volte a betremme ma se non nasce in me il natale non è in me come faccio a sapere che è nato in me rispose così se sento dentro di me un bisogno di fare del bene se sono pronto ad asciugare una lacrima anche sul volto del mio peggiore nemico ho la certezza sono betremme gesù è nato in me eminenza sa quante lacrime ha asciugato stasera lei neanche lo immagina lo sa solo il signore non puoi immaginare quanto è bello però fare del bene te lo garantisco non puoi immaginare quanto è bello io non credo che potessimo chiudere questo spazio nella materia più bella e luminosa di questa eminenza le auguro un anno pieno di luce l'abbraccio virtualmente dico a casa non ve ne andate vi porteremo all'urdo ma c'è un momento l'eminenza mi ha chiesto ma diana canta io ho detto lei no ma noi una sorpresa in questo senso l'abbiamo preparata grazie eminenza quest'anno sarà bellissimo con lei pubblicità non vi muovete copertina sui piedini e state sul divano ancora con noi bentornati a finalmente domenica prima di andare all'urdo dopo il cardinal comasti avevamo bisogno di un'esplosione di bellezza di continuare ad incantarvi se possibile beh l'undici dicembre scorso hanno eseguito il loro primo concerto online e hanno cantato il natale in tutte le lingue del mondo io sto sentendo che si stanno preparando sono pronte l'estate vedendo signore e signori in esclusiva in esclusiva a finalmente domenica legge in verde prego Dio bambino sei nato qui per noi lieve battito di infinito amor fragile respiro pura luce che ci fa rinascere qui davanti a te ci fa rinascere qui davanti a te il suo verso canterà è nato il re dei re Dio con noi, Emanuele, saremo uno in te. Dio con noi, Emanuele, saremo uno in te. Piccolo Gesù, noi saremo il cielo che ti accoglierà. Casa è quella che ti riscalderà. L'universo canterà, è nato il re dei re. Dio con noi, Emanuele, saremo uno in te. Saremo l'universo canterà, è nato il re dei re. Dio con noi, Emanuele, saremo uno in te. Saremo uno in te. E l'universo ha cantato con Nancy, Colomba, Alessandra, Beatrice, Giamaica e Maria Fatima. Io ho il pallino qui perché sapete che non vi posso abbracciare, anche se abbiamo fatto una bella chiacchierata prima. Vi ascoltavo e pensavo che questo è Natale. Le vostre provenienze, i vostri volti, la vostra passione per Dio, la vostra passione per la luce. Che si è concretizzata in un progetto, Alessandra, Nancy, poi Colomba, vedete voi chi mi vuole rispondere. Che è quello di cantare il Natale tutti insieme l'11 dicembre. E che è successa una cosa meravigliosa, bellissima. Come è possibile recuperare il materiale? Come è nato questo progetto e che cosa c'è dietro? Alessandra, vuoi cominciare tu? Guarda, di questi concerti online durante la pandemia ne abbiamo fatti da quando è iniziata, ne abbiamo fatti vari in effetti. E questo del concerto di Natale è stato proprio un desiderio di portare speranza e pace. Ma forse ce ne può parlare meglio Nancy? Ecco, sì. Guarda, sentiamo che tante volte il Natale si svuota del suo vero significato. E volevamo fare una cosa proprio per, come dire a Gesù, che c'è posto per lui nei nostri cuori. Allora con questo concerto e questa canzone in modo particolare abbiamo proprio voluto esprimere questo, che vogliamo essere noi questa casa che lo accoglie. Meraviglia. E anche attraverso la musica proprio esprimere questa gioia. E Colomba, una casa che viene da tutte le parti del mondo. Tu sei veramente coreana, quindi dall'altra parte. Sono veramente coreana. Eppure qui, insomma, fino anche l'Europa ha rischiato di dimenticarsi che Natale non è Babbo Natale, ma Natale, scusate se ve lo ricordiamo sempre, è Gesù Bambino che nasce. Sì. Che cosa ha aggiunto al tuo Natale tutta questa esperienza quest'anno, questo tuo modo di essere artista? No, per me anche preparando questo concerto che proprio è stato arricchito con tutte le nostre culture, quindi abbiamo anche inserito il nostro strumento tradizionale oppure attraverso vari stili musicali. Ecco, appunto, abbiamo anche scelto delle canzoni molto amate proprio da parte nostra. Allora, facendo questo, noi veramente abbiamo voluto esprimere la ricchezza della diversità che è in dialogo. E poi non so cosa possiamo ancora aggiungere per il concerto, perché per questa occasione abbiamo formato un coro con i bambini giovani di Loppiano, che è la nostra città, che è internazionale appunto. Allora, creando anche un momento di famiglia, un momento di famiglia grande, mondiale, questa esperienza ci ha arricchito tantissimo. Alessandra, una curiosità, Emmanuel, Dio con noi, dice tutto. Qual è il vostro augurio per quest'anno? Eh beh, di ritrovare proprio in questo, cioè riscoprire in questo bambino la possibilità di rinascere, rinascere insieme. E quindi crederci ancora, ritrovare veramente il senso del Natale in questo fare casa a lui e quindi a tutti quelli che abbiamo intorno. Siete così credibili nella vostra arte, nella vostra bellezza, che noi di questo siamo certi. Grazie Genverde, grazie di essere state con noi. Io mi posso spostare, me ne vado perché lì c'è un altro richiamo. C'è un'altra Maria, è lei, la Madonna che ci aspetta, all'URD. Buon Santo Rosario a tutti voi e buon anno davvero da tutti noi di Finalmente Domenica.